Io tengo il tuo microfono spento! Se te sta bene, sta bene, sennò te ne vai! Sicuro! Che bello il Natal! Che bello il Natal! Per questo Natal Ho ricevuto una bombola di gas Evviva! Potrò cucinare Per carità Potrò cucinare Che c'hai della mozzarella? Divino a mangiare Ma poi qualcuno mi dovrà spadecchiare E tanti Io ho ricevuto un solo cappotto Sarebbe meglio Uno nell'occhio Io l'ho passato A niente né corto Per mutanda Forse lo metterò Cazzo Ho ricevuto questo piperon Chi è? Da parte del Presidente Macron Perché? Per bambina Ma preso Macron Gli dà un calcio E non Ehi! Due palle in Natal Ancora Due palle in Natal Perché? Perché? Per questo Natal Ho ricevuto due palle di Natal Gioia Nella puntata è mia zia Rosetta Chi? Queste? Chi? Chi?